I giovani devono essere sostenuti, bisogna agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro, ecco perché siamo favorevoli ad abbattere la pressione fiscale per l'assunzione dei giovani, siamo favorevoli a sostenere le start-up, siamo favorevoli a far sì che le nostre migliori intelligenze rimangano anche nel nostro paese, cioè non essere costrette alla fuga dei cervelli. Quindi è un'azione per le università, per sostenere la ricerca, l'innovazione, favorire le imprese. Quando noi facciamo una politica della crisce lo facciamo pensando soprattutto ai giovani che oggi lavorano o iniziano a lavorare e quindi possono avere un lavoro sicuro e anche quelli che non riescono a trovarli. Sono più preoccupato per esempio per la disoccupazione nel mezzogiorno, quindi bisogna far sì che anche il tessuto imprenditoriale del sud si rafforzi attraverso anche un'azione del PNRR, cosa che si sta facendo e quindi credo che da questo punto di vista si possa dare un segnale di grande attenzione ai giovani. Anche per quanto riguarda la formazione io credo che si debba puntare molto sugli ITS e fare in modo che la formazione che viene data ai nostri giovani sia utile a far loro trovare posti di lavoro. Perché cosa accade? Spesso molte imprese cercano personale qualificato e manca il personale qualificato. Gli ITS garantiscono un percorso formativo che qualifica i giovani e quindi possono trovare un lavoro che è sempre più ad alta specializzazione.